Eccoci insieme per qualche annotazione sulla crisi politica italiana, sulla crisi di governo. Alcune annotazioni per provare a orientarsi nella crisi e alla fine darò anche alcune mie valutazioni. Innanzitutto ricordiamo sempre che siamo in una repubblica parlamentare. Le nostre madri, i nostri padri costituenti dopo vent'anni di dittatura fascista hanno pensato di fondare una repubblica di tipo parlamentare non presidenziale. Pertanto la sovranità è nel Parlamento che è eletto a suffragio universale maschile e femminile ed è in due rami diviso, il Parlamento e la Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica. E la sovranità appartiene al Parlamento che è eletto direttamente. A livello nazionale noi eleggiamo direttamente, solo ed esclusivamente, i deputati e i senatori. Dire che è una repubblica presidenziale vuol dire invece che c'è un Presidente della Repubblica eletto dai cittadini che tendenzialmente ha grandi poteri rispetto al Presidente della Repubblica italiana. Cioè ha dei poteri tendenzialmente di governo, guida l'esecutivo o indirizza l'esecutivo, il Presidente dell'America e anche il capo del governo. L'Italia invece è una repubblica parlamentare, dunque il cuore della sovranità è nel Parlamento. Il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica ogni sette anni e il Parlamento dà la fiducia ad un Premier, ad un Primo Ministro e ai Ministri che compongono l'esecutivo, il governo. Il quale però Premier e i relativi Ministri devono essere indicati, ricevere l'incarico, l'avvallo da parte del Presidente della Repubblica. Dunque, noi votiamo i deputati senatori. I deputati senatori eletti possono, costituendo una maggioranza, dar la fiducia a un governo. Questo governo entra in carico, si ha una maggioranza sia al Senato sia alla Camera, dunque si ha un voto di fiducia, ma questo governo ha un Primo Ministro che è nominato, incaricato dal Presidente della Repubblica che a sua volta è stato eletto dalla Camera e dal Senato congiuntamente, più anche con i senatori a vita, i Presidenti della Regione italiani, eccetera, eccetera. Dunque, fatta questa premessa, il governo è caduto perché c'è stata una frattura, una rottura. Salvini ha deciso di staccare la spina al governo, sembra che poi negli ultimi giorni abbia cercato di ritrattare, di rilanciare magari un esecutivo, un governo brevetero, però di fatto c'è una rottura. Cioè, dopo più di un anno di convivenza tra i Cinque Stelle e la Lega, ha dunque una maggioranza giallo-verde, vuol dire che la maggioranza è la questione dei voti parlamentari, senatori e deputati dei Cinque Stelle e della Lega alleati. Dopo più di un anno Salvini ha rotto, per quale motivo lasciamo la sto perdere, ha deciso di rompere. A questo punto, rompendo e presentando una emozione di sfiducia addirittura al premier che ha appoggiato fino a qualche settimana fa, ha aperto la crisi. Conte, che era stato indicato dai Cinque Stelle, che avevano vinto le elezioni, almeno numericamente erano nel partito, un momento con più voti, Conte si è presentato al Senato, ma era il capo del governo, i cui vicepremier erano appunti, vicecappi di governo Di Maio e Salvini, i due capi politici degli schieramenti che si erano uniti per dare vita a questo governo, Conte si è presentato al Senato e ieri ha annunciato le sue dimissioni, dunque non si è neanche fatto sfiduciare prima del voto di sfiducia, si è di fatto dimesso e ha detto che avrebbe presentato le dimissioni al capo di Stato, perché quando un premier decide di dimettersi, o anche un ministro decide di dimettersi, deve presentare dimissioni al capo dello Stato. può essere dunque dimissionato, sfiduciato da un voto del Parlamento, può essere sfiduciato dalla stessa maggioranza, la maggioranza dice guarda o ti dimetti o ti votiamo una sfiducia in Parlamento, dunque un ministro o anche un premier può essere sfiduciato dall'opposizione più una parte di maggioranza, può essere sfiduciato da tutta la maggioranza e può invece dimettersi quando capisce che andrebbe incontro a una sfiducia o perché non va più d'accordo con l'esecutivo, con gli alleati, ma quando tutto ciò avviene deve presentarsi al Presidente della Repubblica che è consegnare le dimissioni e il Presidente della Repubblica tendenzialmente le accetta, le approva, potrebbe non accettarle, potrebbe rinviare, si è sfiduciato alla Camera e al Senato, ma serve una prova di forza che il Presidente della Repubblica che in Italia è il garante della Costituzione e che può fare delle pressioni morali, etiche ai governanti, ai parlamentari, dunque al governo e al legislativo, il Presidente della Repubblica tendenzialmente accetta le dimissioni o la sfiducia perché il cuore pulsante dell'osteurocazia è il Parlamento e dunque Conte che ha capito che c'era una rottura della Lega, non ha voluto farsi impallinare, non ha voluto farsi sfiduciare, non ha voluto rimanere passivo, ha deciso di contrattaccare, si è dimesso e nel dimettersi ha pronunciato un discorso durissimo contro l'ex alleato. A questo punto viene meno la maggioranza che sosteneva questo governo, ripeto, anche Salvini si è detto disposto a dare avanti con un esecutivo, eventualmente con il Premier Conte, prima diceva, perché ha anche ritirato la sfiducia ieri sera, tanto si era già dimesso chiaramente Conte, si è dato disposto a guidare un esecutivo che faccia la manovra economica di settembre, ottobre, autunnale, per poi andare alle elezioni, ovviamente in primavera è difficile andare alle elezioni effettivamente in autunno perché c'è da provare una manovra, la manovra economica e dunque c'è da varare la cosa finanziaria, un tempo si chiamava, a parte che se anche non ci fosse un governo sarebbe una finanziaria tecnica, cioè i conti dello Stato verrebbero comunque tenuti in regola dai revisori dei conti, andrebbe dunque sotto un'amministrazione tecnica finanziaria, non chissà il crollo dell'economia italiana, certamente è bene che ci sia un governo, in una democrazia parlamentare è bene che ci sia un governo, non che governi l'economia, se ha dei margini di governare l'economia, sappiamo che i governi hanno sempre di meno, ma un po' ne hanno, possono decidere dove indirizzare quelle poche risorse che i governi nazionali hanno a disposizione, soprattutto se c'è una crisi economica molto lenta. Dunque è una cosa insolita andare a votare effettivamente in autunno perché ci sono di solito appunto diversi provvedimenti economici, finanziari, connessi sociali da fare, la manovra economica e sociale va fatta. E dunque se vi dice, guarda, la facciamo ancora insieme, tagliamo i parlamentari e poi andiamo in voto, al voto in primavera. Ovviamente dopo una frattura così grande, tirato di pesce in faccia a Conte, Conte con l'orgoglio si è dimesso e sicuramente non vuole andare avanti a guidare un esecutivo con la Lega. I scenari che si aprono quali sono? Rimaniamo però alle istituzioni. Cosa prevede la nostra Costituzione dal punto di vista istituzionale? Prevede che adesso il capo dello Stato, nella pienezza dei suoi poteri, faccia che cosa? Consulti i gruppi parlamentari per cercare di capire se all'interno del Parlamento è possibile che ci sia una nuova maggioranza che appunto dia vita ad un nuovo governo. E il tutto è costituzionalmente valido, legale, legittimo. Perché tra l'altro il partito che ha vinto le elezioni due anni fa, un anno abbondante fa, un anno e mezzo fa, sono i Cinque Stelle. Non dobbiamo pensare alle elezioni europee in cui i Cinque Stelle hanno perso milioni di voti e la Lega ha perso altrettanti milioni di voti. In Parlamento la stragrande maggioranza dei parlamentari sono dei Cinque Stelle. Dunque tutte le leggi approvate in questi 400 oltre giorni sono state approvate perché c'era il blocco forte dei Cinque Stelle più quelli della Lega che li hanno approvati. Ma la grande maggioranza dei parlamentari sia sedatori sia diputati è dei Cinque Stelle. Dunque i Cinque Stelle hanno i numeri per formare un nuovo governo. Con chi? Bisogna vedere se ci sono delle persone, degli alleati, dei partiti, dei deputati, anche i singoli. Ho detto che siano i partiti, potrebbero i singoli parlamentari. Quando noi leggevo i parlamentari, il parlamentato in Parlamento risponde a se stesso alla Costituzione, non ai partiti. Poi può essere una buona usanza il centrisimo democratico del Partito Comunista, ad esempio, i socialisti dell'epoca. Cioè quello che diceva il partito è la linea di tutti i parlamentari. Ma valeva anche per la DC. Solo che i DC poi spesso sono divise in grandi correnti e dunque votavano in maniera anche diversa. Invece le correnti del protoconistico poi cercavano di trovare una sintesi comunque di maggioranza. Dunque, detto che potrebbero, potrebbe esserci una maggioranza di parlamentari che decidono di dare un nuovo governo proveniente da tutte le forze politiche. Cioè un po' di leghisti, un po' di fratelli d'Italia, di Forza Italia, un po' di Leu, un po' del PD. Una cosa difficile, anzi, è una cosa che è meglio che non ci sia per una questione anche di moralità, di limpidezza politica. E' bene che ci sono differenze, a mio avviso, da destra a sinistra. Bene che ci siano. Oggi in Parlamento ve ne sono, a mio avviso, anche molto, molto poche. Questa è la mia opinione. Dunque, il Presidente della Repubblica consulterà. E se i Cinque Stelle sono disponibili a fare un nuovo governo con determinati nuovi alleati, e questi nuovi alleati sono disponibili a formare un governo con i Cinque Stelle, Mattarella, dati i suoi poteri, può conferire il carico di fare un nuovo governo ad un Premier che magari hanno suggerito i Cinque Stelle e il PD, i Cinque Stelle e, potremmo, Forza Italia. Questa scena è difficile. Se invece Mattarella, consultando tutti i gruppi parlamentari di vari partiti, di vari schieramenti, e anche i gruppi parlamentari misti, ci sono singoli diputati che hanno dato forza un raccoglamento misto, perché saranno tutti i diputati per dare vita a un gruppo parlamentare, se Mattarella, consultando i gruppi parlamentari misti, si accorge che non ci sono i numeri per formare un nuovo governo, vi faccio sempre molto chiara. I Cinque Stelle dicono, noi siamo disposti a fare un governo con Tebis, con chi ci sta, con il PD anche. Il PD va e dice, noi non ci stiamo a fare nessun governo. Forse lei dice, noi non ci stiamo a fare nessun governo. Leo è il gruppo misto, nessun governo, la Lega e Fratelli Italia, non c'è nessun governo, Mattarella non può che prendere atto che non c'è nessuna possibilità di fare un governo e dunque indire nuove elezioni. Può decidere di dare vita a un governo istituzionale, tecnico, dice, c'è la manovra finanziaria da fare, do l'incarico a questo Premier e chiedo a voi partiti, la responsabilità a voi parlamentari di votarlo. Potrebbero i parlamentari non votarlo e dunque si va a elezioni comunque a ottobre, novembre. Dunque il Presidente della Repubblica ha molto potere, uno dei pochi casi in cui ha tanto potere, perché può decidere, vi ripeto, se dare l'incarico ad una nuova maggioranza, sempre che questa maggioranza ci sia, o può proporre al Parlamento, al Senato e alla Camera un governo istituzionale per fare la finanziaria e poi sciogliere le Camere, ma rimane comunque questo grande potere subordinato al fatto che se i parlamentari dicono di no, si va comunque a elezioni, perché il Parlamento è il cuore pulsante della sovranità in Italia. Le cose probabili dunque in prossimi giorni sono appunto quei, sono due scenari possibili, altri tre scenari possibili, scusate. I Cinque Stelle e il PD fanno un'alleanza con un programma che può essere un programma di minima per andare a nuove elezioni o addirittura un programma di legislatura e devono mettersi d'accordo Di Maio, Grillo, che è il grande veicolo che ci sta dietro, Casaleggio e i Renziani, perché nel Parlamento ci sono in maggioranza deputati, senatori, Renziani, non dunque della corrente di Zingaretti o di altre correnti, perché come tutti i grandi partiti in tutto il mondo è diviso anche corrente, chi è più moderato, è più di centro, è più di sinistra, chi è più progressista, è più conservatore. E dunque, o c'è un accordo PD-Cinque Stelle, un accordo di fine legislatura, cioè governiamo insieme più di tre anni, facendo questo e questo altro con un programma e devono poi ogni volta in Parlamento ribadire questa maggioranza governando insieme, oppure ci può essere un accordo PD-Cinque Stelle di medio periodo, governiamo un anno insieme, sei mesi insieme, facciamo due o tre cose che hanno da fare e poi dopo si va alle elezioni, dunque nasce un nuovo governo sull'asse PD-Cinque Stelle, dovendo chiaramente ritornare indietro rispetto ai nemicizi, ai insulti, i Cinque Stelle sono di destra o di sinistra? Loro si definiscono di destra e di sinistra, il PD è di sinistra, ma che tipo di sinistra è? Moderata, moderatissima, riformista, liberista, socialdemocratico, tanti anni anche nel PD, riescono a trovare un programma riformatore reale, riformista, riformatore, o fanno un programma per mirare a campare, fanno un programma europeista, europeista-liberista, europeista-socialdemocratico, lo fanno sovranista, è difficile, hanno molte, molte divergenze, è chiaro. Però il primo scenario può essere un accordo tra il PD-Cinque Stelle con eventualmente un programma o di legislatura o dunque di ora cinque anni, un anno e mezzo già passato, o di fine di legislatura o a breve periodo per poi andare a nuove lezioni. L'altro scenario è, terzo, secondo scenario è il governo tecnico. Non c'è nessuna maggioranza, Mattarella propone un terzo uomo, un terzo super partes, Cottarelli, un esempio, Draghi, che lascerà poi la presidenza della Banca Centrale, un governo che metta a posto i conti, un governo che faccia una manua finanziaria, è un governo tecnico che si limita a fare due o tre cose. Tendenzialmente significherà mettere a posto i conti, fare la manua finanziaria, eventualmente portare a casa questa riforma dei parlamentari se la si vuole veramente portare a termine. Io personalmente non la condivido perché il primo non sono i numeri parlamentari ma il costo dei parlamentari. Tanti parlamentari permettono anche, permette a noi di eleggere più deputati e dunque avere più peso rispetto alle elezioni, eviti le lobby perché meno deputati ci sono, più facili anche che i poteri forti li intercettino. Dunque il problema non è ridurre i deputati per ridurre il costo, è ridurre il loro compenso, pensateci. La democrazia è fatta anche di tanti rappresentanti, è fatta anche di una bella e sana rappresentanza. E quel punto le forze responsabili, il PD sicuramente siamo in prima linea, anche Forza Italia, direbbero noi ci stiamo a fare questo governo di unità nazionale, governo tecnico, probabilmente anche i Cinque Stelle per non rimanere col cielo in mano, metterebbero all'opposizione Fratelli d'Italia e la Lega che griderebbero al governo lacrime e sangue contro chiaramente l'interesse del popolo sovrano, tutto a sorta di anche propaganda politica che fa parte del gioco politico e fa parte del gioco politico e anche perché i sovranisti italiani, quelli che rivendicano un anti-europeismo senza poi però in Europa dall'Europa uscire. Inizialmente il loro sovranismo significa poi lotta all'immigrazione violando anche le carte di diritto internazionali dell'uomo e dei rifugiati e anche i diritti del mare. Ma detto questo, il loro sovranismo poi spesso si riduce a una lotta contro i migranti più che una lotta contro l'euro o contro Macron, Merkel o contro la banca centrale. Poi ci serve un po' lo sovranista, Lega, Salvini e Fratelli d'Italia Meloni che griderebbero contro le nefandezze di questa grande mucchiata PD, 5 Stelle e Forza Italia per il governo di un'internazionale. Però questo è il secondo vero antiscenario possibile. Il terzo è quello delle urne subito. Non si trova nessun accordo, per me è il più improbabile, non si trova nessun accordo e dunque si va alle urne. si va alle urne a novembre non si fa nessuna riforma la manovra tecnica la verrà portata avanti e dicevo prima dagli organi burocratici dello Stato la manovra finanziaria dunque sarebbe una manovra una manovra una manovra tecnica e dunque ci sarebbe una transizione con Mattarella che indicherebbe probabilmente alcuni personaggi che dovrebbero soltanto fare appunto quadrare i conti. E il quarto scenario cioè che si rinforzi ovviamente ripropongo un asse 5 stelle lega è affinacamente improponibile la rottura è troppo grande forse era già innaturale non lo so ci sono molti elementi comuni perché i 5 stelle hanno un'anima più di sinistra e un'anima più di destra in questo anno hanno ingoiato tanti rostri hanno avuto molti provvedimenti di destra soprattutto sui migranti sulla sicurezza hanno avuto ingoiare molti rostri dal punto di vista anche il cedimento sulla TAB hanno ottenuto forse qualcosa sul reto di cittadinanza che però non è un proprio salario salario minimo di cittadinanza è qualcosa di diverso ed è prevalsa sempre la linea tendenzialmente sovranista ma anche liberista un po' alla Orban di Salvini dunque il quarto scenario lo vedo altamente improbabile questo è quanto la palla passa mattarella se nasce un nuovo governo è pienamente legittimo il punto di riferimento non sono le elezioni europee ma le elezioni politiche e hanno sancito la vittoria con il primo partito del momento 5 stelle il quale se trova altri alleati può dare vita ad una nuova maggioranza per fare cosa questo è poi il mistero della politica le mie considerazioni finali sono le seguenti ieri in Parlamento si è stato un dibattito abbastanza rozzo e volgare a mio avviso in modo particolare da parte di Salvini che ha ottenuto una pessima retorica un linguaggio colloquiale e volgare che non si è mai visto da parte di un ministro della Repubblica un buon discorso istituzionale da parte di Conte che però non ha fatto autocritica rispetto a quest'anno e mezzo sembra che per l'anno e mezzo abbiano governato con un pazzo maleducato folle volgare dal papete beach per caso perché perché ammalati un po' di autocritica su quest'anno e mezzo avrebbe potuto farlo e forse un po' di autocritica anche sul decreto di sicurezza e decreto di sicurezza bis perché il problema non è soltanto l'uomo Salvini eventualmente se è un problema ovviamente ma è anche le politiche che porta avanti la Lega Nord perché sul tema delle armi facili sul tema della repressione nelle piazze sul tema del respingimento dei migranti capite l'ha procurato intervenire di nuovo per dire che l'aggregento che la nave andava fatta attraccare la stessa marina militare ha salvato sicuramente il discorso è batte bandiera spagnola vada in Spagna cioè il discorso è senza senso noi siamo un paese mediterraneo le navi che giungono tra noi e Malta devono essere accorde da noi e Malta poi dopo devono intervenire l'Unione Europea gli accordi la suddivisione i fondi che l'Italia riceve in abbondanza allora come dire c'è una nave battente bandiera cilena o panamense nel Mediterraneo o cabione di soccorso diciamo guardate andate in Cile o in Panama poiché battete bandiera cilena o panamense ma siamo chiaramente alla soldata dunque prima riflessione del discorso molto molto rozzo e volgare di Salvini e secondo punto la poca autocritica di Conte la demagogia a mio avviso di Renzi il quale ha elogiato il suo governo passato come il governo del Bengodi non è proprio così ha pattaccato Salvini sui migranti ricordiamoci che il numero di rimpatri fatti da da Minniti è superiore a quello fatto da Salvini e che le politiche scelerate con la Libia e gli accordi con la Libia e con i campi di Conte Libia l'ha fatto il governo del PD anche un po' di autocritica non sarebbe guastata altra riflessione è l'assenza per non parlare del deputato di Leo il senatore di Leo Errani che ha elogiato appunto la durezza nei respingimenti del governo Minniti dunque anche quella poco di sinistra che c'è nel Parlamento ha fatto un intervento a mio avviso di bassissimo profilo i grandi assenti i grandi assenti sono stati i grandi problemi di noi italiani i grandi assenti nel dibattito erano i temi a noi più cari ma la colpa è nostra perché effettivamente noi non votiamo mai sui temi noi eliggiamo spesso e volentieri pagliacci e con tutto il problema di pagliacci mi hanno fatto notare ed è giusto che subiamo poi dopo dei trattamenti di questo tipo perché i problemi sono precarietà salari bassi corso a riarmo spese militari ambiente istruzione sanità ieri nessuno che ha parlato di sanità tempi della sanità costi della sanità nessuno ha parlato di ambiente l'aria che respiriamo il cibo che mangiamo l'acqua che beviamo nessuno ha parlato della gravità dell'assenza di politica ambientale in Italia guardate le foto che sono in questi giorni in rete sull'avanzamento del mare in Sicilia sull'avanzamento dei deserti in Basilicata in Calabria ma si toglie tutta un'invenzione tutta un'invenzione i cambiamenti climatici sono un'invenzione c'è la lobby della lobby della green economy crediamo a questi fantocci ripeto la green economy capitalista non ci salverà ma c'è un problema di cambiamenti climatici e noi cittadini e noi lavoratori e voi studenti e noi insegnanti di prenderci a cura di questo problema perché nessuno ci salverà soprattutto i padroni della terra i suoi della terra i gran ricconi che pensano di salvarsi loro e che pensano al medio al brevissimo periodo a fare i soldi e poi a salutarci l'ambiente assente energia rinnovabile assente è bello che qualcuno dicesse questo governo non ha fatto nulla per queste cose questo e quello prima cosa ha fatto e quello prima e quello prima ancora cosa ha fatto niente che istruzione di pessima riforma in pessima riforma una voce che in Parlamento avesse detto serve investire nell'istruzione nelle manovre di cabotaggio educazione civica o cosa faceva prima Renzi mettiamo in Roma ma di cosa stiamo parlando servono soldi servono cifre del PIL come fanno in Germania come fanno in altri paesi del mondo bisogna investire in Finlandia in Svezia eccetera eccetera investire in istruzioni in edifici sicuri e in istruzioni in laboratorio in insegnanti qualificati tutto questo va fatto va fatto non c'è stata una voce non parliamo chiaramente del lavoro se proprio gli imprenditori agevolare gli imprenditori gli imprenditori gli imprenditori gli imprenditori sempre gli imprenditori e noi lavoratori niente zero parole sui salari bassi sulla precarietà sul fare mille poor work lavori poveri per mettere insieme un salario di merda questo non si dice ieri non c'è una voce da parte del mondo del lavoro che riecheggiasse dentro quel parlamento e allora e allora quando votiamo pensiamo eventualmente facciamo una lista che sono molto iuniano molto empirico facciamo una lista di quali sono le nostre priorità le nostre priorità sono veramente gli immigrati scrivetelo immigrati ok se allora votate se il problema è l'immigrato se è la droga se sono i gay se sono le lesbiche se sono questi i problemi le famiglie raccobaleno votate ma magari vi accorge che è l'aria che risperate che è l'assenza di lavoro che è la precarietà l'assenza di vacanze che è il salario basso che è la città in cui vivete che ha un'aria irrespirabile mettete insieme queste cose che è la scuola di vostro figlio che è l'asilo troppo caro perché l'ospedale è su 7-8-10 mesi per avere una visita fate l'elenco delle priorità e poi dopo votate se volete votare altrimenti uno può dire cosa molto molto nobile a cui io sempre mi sto più avvicinando se l'ho sempre fatta mi rimbocco le maniche e ogni giorno mi mobilito milito per questa politica alta che è fatta di ambiente di pace voglio più Canadair contro l'incendi e voglio meno voglio meno caccia bombardieri sei furbo se invece sei per i cacciabombardieri non per i cacciabombardieri sei un coglione devi avere il croccio di guardia e ospetto e dirti sono un coglione e se sono un coglione è giusto che mi governino i coglioni che i cacciabombardieri per i cacciabombardieri